Il 7 maggio 2023, in occasione del compleanno di Chiara Ferragni, Fabio Maria D'Amato, manager delle società dell'influencer, su Instagram scriveva, noni. Il 7 maggio 2023, in occasione del compleanno di Chiara Ferragni, Fabio Maria D'Amato, manager delle società dell'influencer, su Instagram scriveva, noni. Il 7 maggio 2023, in occasione del compleanno oggi, quasi un anno dopo, queste parole potrebbero non rispecchiare l'area. In pochi mesi la vita professionale, e anche quella privata, di Chiara e del suo manager sono state stravolte. A dicembre, poco prima di Natale, la notizia della multa dell'antitrust da un milione di euro alle società della Ferragni e da 420.000 euro alla Balocco per pratiche commerciali. A dicembre, poco prima di Natale, la notizia della multa dell'antitrust da un tra l'imprenditrice e il suo braccio destro e sinistro, così lo ha definito la stessa Chiara, sarebbe crisi nera. D'Amato presto potrebbe lasciare la sua posizione manageriale, ma solo dopo una liquidazione. Secondo quanto riporta il messaggero, Fabio Maria è anche membro dei CDA di due società dell'influencer dei Blond Sala de Chiara Ferragni col. Insieme da otto anni oltre che legati negli affari erano anche amici, ma di quei legami oggi sarebbe rimasto ben. Gabriele Parpiglia a RTL, ha svelato che i due non si vedrebbero da quando è scoppiato il caso Pandoro, aggiungendo anche che D'Amato avrebbe dato le dimissioni da tutte le aziende di Ferragni. Gabriele Parpiglia a RTL, ha svelato il manager avrebbe avuto, suo malgrado, un peso anche nella separazione tra Fedez e Chiara. Arrivalaro è stato, poche settimane fa, Fedez nell'intervista rilasciata. Chiara ha scelto di prendersi tutte le responsabilità, lei poteva e doveva spiegare che le responsabilità non sono tutte su anche dei manager. Di un manager, uno solo, ha dichiarato, e sottolineato, il rapper senza fare direttamente il nome di D'Amato ma facendo ben dal canto suo. Il dirigente si è trincerato nel silenzio, non ha mai rilasciato interviste e non aggiorna il suo profilo Instagram dal 10 dicembre 2020.